buongiorno a tutti bentornati nella mia cucina ad una nuova degustazione di bevi con mosca oggi siamo in campagna e vi ripresento l'azienda masseria frattasi oggi abbiamo prestigio rosè che è un alienico fatto sul taburno spumatizzato metodo charmat come vi ho già detto nei video precedenti il metodo charmat è quello in cui la presa di spuma avviene in autoclave non per rifermentazione in bottiglia come detto prima siamo nella zona di monte sarchio provincia di benevento e sul taburno siamo dai 250 ai 350 metri sul mare andiamo ad assaggiarlo si vede da subito che ha un colore rosa molto carico e ti viene già voglia di verlo a me piacciono un sacco i vini quando hanno questi bei colori intensi perché anche l'occhio vuole la sua parte polla molto fine scusate ma starei qua ora ad annusarlo c'è una benissima parte floreale queste note di rosa gnicine fiori di ciliegio e poi entra la frutta con la marena la fragola in bocca c'è una perfetta corrispondenza gustofattiva molto persistente è un vino comunque facile non impegnativo ma fa ciò che deve fare questo momento mi verrebbe voglia di sbranarmi un astice alla catalana dove la parte rossa sia del vino che dell'astici mi rimane qua sulle sulle guance mi fa il ghigno un po la joker che altro dire bevi con mosca grazie a tutti 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 grazie a tutti